buongiorno siamo ottobre e la stagione agonistica è più o meno finita e si ricomincia con la preparazione di base abbiamo raggiunto un certo obiettivo di prestazioni e nell'anno di gara appena concluso siamo riusciti a raggiungere risultati più o meno buoni e che si fa in questo in questo momento dell'anno si ricomincia con la preparazione detta di base si va di nuovo a lavorare sulle capacità e sulle capacità di resistenza sulla sulle capacità cardiorespiratorie si va a lavorare sui fondi lenti a bassa bassa intensità proprio per migliorare quella che la capillarizzazione migliorare quello che è il rendimento mitocondriale e si va appunto a costruire tanto volume per andare a migliorare quegli aspetti che abbiamo già costruito nell'anno appena finito per cercare di rosicchiare qualcosa di più dalla prestazione dell'anno precedente ovviamente le prestazioni e quello che si può ottenere non è uguale per tutti avremo insomma per i ragazzi giovani 20 30 anni che avranno ancora la possibilità di spremere qualcosa dai 40 anni ai 45 magari qualcosina anche lì si riesce ancora a tirare fuori se non mantenere dai 45 come il sottoscritto ai 50 insomma si cerca di perdere il meno possibile di quello che guadagnato probabilmente anche qui se negli anni precedenti non si è sviluppato molto le proprie capacità agonistiche si potrà tirare fuori qualcosina però la strada è molto molto faticosa gli allenamenti sono diventeranno molto intensi bisognerà dedicare molto tempo sia agli esercizi di base di corsa che esercizi complementari di tecnica e di potenziamento perché andando avanti con gli anni si fa più fatica a mantenere alta l'intensità è più probabile tirar fuori infortuni insomma è un lavoro da fare di di fino andando quasi a cesellare il nostro fisico per riuscire a tirar fuori quel quella manciata di secondi in meno o in più correlato alla velocità in questo periodo e quindi andremo a lavorare su fondo lento corse magari di un'ora e mezza due ore a bassissima intensità proprio si parla della appena intorno alla soglia aerobica quindi si parla di 4 millimoli di acido lattico per litro andando parlare ancora in modo un po più semplice si parla di quello che viene chiamato sia sui sui vostri sport watch z1 z2 non vi preoccupate se in z1 z2 andate a 6 minuti a chilometro 7 minuti a chilometro va benissimo quel tipo di intensità è proprio quella che serve per il vostro organismo per riprendere affinità con l'ossidazione degli acidi grassi serve per aumentare quindi il la capillarizzazione dare la possibilità al sistema cardiovascolare di irrorare i muscoli sempre di più nelle sue parti periferiche quindi portando sia nutrienti che ossigeno se si va ad aumentare il ritmo subentrano altri aspetti e del dei sistemi energetici che che vanno a perdere le i benefici che si ottengono appunto con con la corsa lenta e quindi quella intensità un po più alta la terremo per una prossima fase di allenamento quando avremo consolidato quelle che sono le basi e non solo corsa si farà in questo periodo se andranno se andrà anche a lavorare di nuovo su gli aspetti che riguardano la struttura il nostro il nostro corpo la struttura muscolo scheletrica andiamo ad aumentare la forza andiamo ad aumentare la resistenza anche muscolare articolare alle sollecitazioni di velocità le sollecitazioni di resistenza alle sollecitazioni di corsa in discesa ad esempio come avviene nel nel trail in questa fase come per la corsa si lavorerà di costruzione costruzione muscolare è come se fossimo tornati un po dei dei principianti dove si fanno i lavori semplici lunghi non molto intensivi ma estensivi per quanto riguarda la corsa e si inizia a riattivare la muscolatura con lavori che si chiamano multi 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 articolari che vanno a lavorare su molte parti del del corpo quindi non si andrà a fare una leg extension che è quell'esercizio dove si muovono solamente le gambe diciamo si va a comprimere solamente a contrarre solamente il quadricipite ma si faranno degli esercizi come lo squat che vanno a lavorare su quadricipite femorali e quindi tutta la parte superiore anteriore e posteriore della coscia sul gluteo sul sul tronco quindi addominali stabilizzatori e scusate e schiena quindi si va a lavorare in modo completo sulla sulla muscolatura con esercizi appunto di base multi articolari come si deve come si può strutturare un programma di potenziamento si può strutturare semplicemente in tre in tre giornate come può essere lunedì il mercoledì e il venerdì dove ci si dicherà più al potenziamento rispetto alla alla corsa che la corsa può sempre rimanere però magari con un volume inferiore proprio per non affaticare troppo l'organismo che sta iniziando a lavorare con con il potenziamento con gruppi muscolari che magari nella stagione estiva si sono un po più tralasciati quindi su cosa si la si andrà a lavorare si andrà a lavorare sullo stacco da terra si andrà a lavorare sullo squat sulla panca su sulla panca piana su esercizi di spinta e di tirata insomma alternando esercizi appunto di spinta e tirata e di esercizi un po più di forza classici come può essere possono essere lo squat e lo stacco andando ad amalgamare questo questi 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 esercizi con le differenti intensità e differenti combinazioni durante la settimana per un periodo di circa sei settimane che ci serve proprio per fare quell'attivazione muscolare a supporto del degli esercizi di di corsa per poi avvicinarsi a quei lavori di potenziamento specifico che serviranno proprio per aumentare la forza nei distretti muscolari più interessati per la corsa e più interessati dal trail andando anche lì ad integrare esercizi specifici di velocità e di potenza per per la corsa proprio come allenamento specifico di di corsa andando quindi poi nel corso delle settimane a sviluppare un programma che ci porterà via via verso la stagione la stagione agonistica quindi in questo periodo anch'io ho ricominciato con la palestra con esercizi diciamola con una scheda diciamo dal principiante proprio per la riattivazione muscolare che mi serve per imparare a fare quei movimenti perché il movimento non è dato solamente dal muscolo ma è dato anche da l'impulso che il nostro cervello dal sistema neuromuscolare che attiva tramite un impulso elettrico dei neuroni che si chiamano moto neuroni che stanno sul muscolo e imparare a coordinare la contrazione è un qualcosa che deve avvenire un po alla volta soprattutto se si è passato molto tempo lontano lontano dai pesi e quindi anch'io sto ricominciando con questo tipo di lavori tre volte alla settimana facendo ruotare questi esercizi fondamentali in modo da poter avere alcuni esercizi di pura forza altri esercizi di stimolo meccanico altri esercizi di stimolo metabolico andando a integrare anche quelle che sono corse lunghe a bassa intensità e anche altri lavori molto importanti che sono le andature che servono per migliorare poi la tecnica di corsa trovate tutte queste informazioni di dettaglio sul sul patrion di cui vi ho già parlato che da ottobre inizierà ad essere completo di spiegazioni log schede di allenamento sia per quanto riguarda la corsa sia per quanto riguarda il potenziamento muscolare dove troverete routine troverete la modalità di calcolare i massimali e via dicendo quindi spero di avervi dato informazioni utili di aver sussicato un po la vostra curiosità verso l'allenamento e ci vediamo al prossimo video ciao